E' proprio il caso di dire che abbiamo fatto accomodare i nostri primi ospiti di oggi, mi sono accomodato anch'io e sono davvero felice di ritrovare in studio Anna Paola Abicelli e Valeria Formenti della Comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno Tony e grazie di nuovo per averci accolto. Grazie a voi, grazie a voi Comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo con la quale abbiamo condiviso un lungo e straordinario percorso di conoscenza, di consapevolezza sulle tematiche della sostenibilità. I più attenti ricorderanno che il lunedì dalle 10.30 alle 11.30 con la regola della sostenibilità la Comunità Laudato Si ha avuto modo non solo di farsi conoscere ma anche di farci conoscere tante tematiche che appunto riguardano il grande e importante mondo della sostenibilità. Sostenibilità che oggi in maniera più diffusa è focalizzata sul tema della sostenibilità ambientale, su questa sfaccettatura. Ma noi abbiamo imparato che sostenibilità è un termine più ampio e omnicomprensivo che tiene dentro tanti concetti importanti e la Comunità Laudato Si in questo senso sta svolgendo un lavoro davvero molto prezioso. Ecco, Comunità Laudato Si che è una realtà internazionale che ha varie antenne, vari satelliti in tutto il mondo e noi abbiamo la fortuna di averne anche un satellite importante anche a San Giovanni Rotondo. Perché siete qui oggi? Perché ci parlerete del tempo del creato 2024. Che cos'è il tempo del creato? Sì, allora, il tempo del creato come leggiamo nel 2024 è perché è un'edizione che annualmente si ripete e si ripresenta ogni anno e unisce i cattolici ma non solo a tutti i cristiani del mondo per agire e pregare per la creazione. Inizia ogni anno il primo di settembre che è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato e termina poi il 4 ottobre che invece è festa di San Francesco d'Assisi. Ogni anno viene individuato un tema su cui focalizzare le azioni, le riflessioni e quest'anno dal Comitato Ecumenico Direttivo è stato scelto appunto sperare e agire con la creazione. Questo perché tutti vediamo come davanti a una crisi ambientale che ha tante sfaccettature ed è sempre più acuta è facile essere presi dallo sconforto, dalla disperazione, dallo scoraggiamento, da quella che diciamo è chiamata eco-ansia oppure ansia climatica. E invece noi come cattolici e come cristiani siamo chiamati a portare quella speranza che invece viene dalla nostra fede che però non è una speranza statica, ferma, semplice attesa, no è azione, impegno e preghiera, tutto questo insieme. Una speranza operosa di cui voi siete davvero una bellissima testimonianza. Anna Paola dicevamo lo avete dimostrato anche supportandoci nel programma La Regola della Sostenibilità ma è molto altro, le vostre iniziative sono veramente tante. Sì e anche quest'anno vogliamo riproporre un po' ciò che abbiamo provato a fare i precedenti due anni di vita della nostra comunità. In particolare stiamo già organizzando un concerto dal titolo Una voce per il creato proprio perché vuole essere un'occasione per dare voce, per trasmettere il messaggio attraverso i brani che i partecipanti a questo evento musicale hanno scelto focalizzandosi sul tema che ogni anno viene riproposto. La musica soprattutto da parte dei giovani vuole essere un mezzo, è un mezzo sicuramente molto efficace per arrivare dritto al cuore, anche all'emotività delle persone e l'emozione fa parte dell'uomo e noi vogliamo puntare anche su quello. Assolutamente sì, complimenti anche per la locandina che è molto bella e ci ricorda come abbiamo visto in sovrimpressione, a tutto schermo, solo qualche istante fa e anche in questo momento il concerto avrà luogo. Il primo settembre alle ore 20 a Zapponeta in piazza Aldomoro. Tra l'altro era aperta anche una call, cioè una chiamata al palco, al microfono. Avete ricevuto un buon numero di adesioni? Sì, ci sono 7-8 ragazzi che parteciperanno, è bello perché ci sono anche ragazzi che vengono dalle precedenti edizioni e che si sono riaffacciati grazie a questo evento, a questa occasione, alla nostra comunità. E per noi questo è un grande successo, ritrovare facce che vogliono con noi, relazionarsi, confrontarsi. È davvero bello fare rete anche in queste occasioni. Nulla è per noi, ma appunto tutto è per dare per uno stesso fine. Assolutamente sì e come dicevamo sono tante le iniziative che come comunità laudato si portate avanti sul nostro territorio. C'è qualcos'altro in preparazione per le prossime settimane, i prossimi mesi? Sì, stiamo organizzando anche un momento di preghiera perché per noi è importante anche questa colonna che ci fa andare avanti nei nostri processi. Quindi subito la sera proprio successiva a questo concerto terremo questa adorazione che come anche negli anni precedenti faremo in un luogo aperto, all'aperto proprio per richiamare un po' quello che vuole essere l'ambiente naturalistico a cui noi ci rifacciamo. È presieduta da padre Franco Moscone, quindi ci sarà anche lui che abbiamo la grazia del suo sostegno in questa nostra missione. Abbiamo già una data? Il 2 settembre, subito dopo il giorno successivo all'adorazione, al concerto. Il luogo lo stiamo definendo, per questioni logistiche di permessi vari, ma con i social, con la messaggistica avremo modo di fonderlo. Ecco Valeria, un motivo in più per seguirvi anche online, ci ricordi i vostri canali social? Sì, l'autosì SGR, San Giovanni Rotondo, siamo su Instagram, su Facebook, comunque anche come canale su WhatsApp, insomma i modi sono tanti per rimanere in contatto con noi. Molto bene ragazzi, il tempo purtroppo è già, il nostro tempo a disposizione è già evaporato, ma abbiamo, ecco, ci resta ancora qualche istante per, non solo per salutarci, ecco, se volete lanciare un messaggio, un invito, un augurio, abbiamo il tempo per fare. Sì, l'estate non è finita, quindi continuiamo a godercela, però sempre ricordandoci che dobbiamo continuare a sperare e agire. Quindi anche quando andremo, continueremo la nostra vacanza, cerchiamo di dare attenzione all'ambiente e a quelle periferie sociali che in estate spesso soffrono di più solitudine del resto dell'anno. Quindi continuiamo a fare un'estate, è laudato sì. Grazie Anna Paola. Valeria, vuoi aggiungere qualcosa? Nulla, prima magari è passato velocemente il logo di quest'anno che è le primizie della speranza, ispirato alla lettera di San Paolo ai Romani. Quindi ricordiamoci che anche se come un parto siamo in un momento di sofferenza anche per il creato, ecco, non dimentichiamo mai che è da qui che può nascere la speranza per un cambiamento. E quindi crediamoci perché anche se non vediamo immediatamente i risultati, questa fiducia è ciò che ci porterà avanti. Grazie, siete davvero una bellissima testimonianza in questo senso, un bellissimo esempio. E io invito quanti potessero a seguire, non solo voi, ma tutte le comunità a laudato sì, che magari, ecco, quelle di prossimità, quelle più vicine a voi, per poter partecipare a tutti gli eventi che organizzano e magari, ecco, camminare con loro su questa strada di speranza operosa di cui abbiamo tanto bisogno. Grazie ragazzi, buon lavoro e arrivederci a presto. Grazie, grazie Tony e buona giornata a tutti.